foot roll qui è dura qui è dura riuscire a vincere qui è dura se ci capitano qualche coglione è impossibile proprio andare a vincere maggiore Dai 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 Con questa squadra Andiamo subito a perdere dai Che cazzo fai? Distruggisela su Ma dai 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 Ma porca di quella troia raga Porca puttana raga Io non ho parole Io non ho parole Io non ho parole Sto figlio di puttana E lo sapevo io lo sapevo Quel coglioni di merda Che lancia bombe tutta forza qua Porca puttana di merda Tutto libero abbiamo adesso Cazzo qua Cazzo è la No raga no raga No raga dai Dai raga Dai Cazzo però Cazzo Cazzo Vaffanculo va Non lo so Andiamo Andiamo di spike Andiamo di spike Vediamo se riusciamo a fare qualcosa con spike Basta che siamo qua dentro Può succedere di tutto là fuori Non me ne fai un cazzo A me cosa succede Resistete qua dentro voi A chi l'ho detto Ora ci lancio il coso qua dentro Venite se avete il coraggio Dai Che cazzo fa quello Porca puttana raga Già abbiamo cominciato così Abbiamo perso È inutile 55 17 Io per quante volte posso scrivare un colpo Con le cose che ci sono anche per terra È impossibile È impossibile Porca puttana L'ha schivato Dai 9042 Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Ok abbiamo vinto Star Super rara Abbiamo da spacchettare qualcosa qui Cosa cazzo ho visto Ok raga Ok Andiamo a spacchettare queste cose qua Dai Star Rara Ok I biglietti qua Come si chiamano I gettoni Star rara Questo cazzo Mille monete Mille monete Star schifosa 100 di queste cose qua Un'altra star super rara 10 gemme che non fanno mai male Un'altra star rara Niente di che Niente di che Però possiamo migliorare i personaggi Abbiamo tutte queste monete qua Io migliorerei Gelindo Che livello c'era 9 Che cazzo era Gelindo ragazzi Ok lo posso migliorare Lo posso migliorare Gelindo Ok posso mettergli overdrive Io li metto overdrive A 5 mili Ok onesto adesso Gelindo Adesso Gelindo Raga Li posso mettere anche questa cosa qua Non mi serve questa cosa qua Salute del 50% Questo può essere Allora velocità Assolutamente la velocità raga E poi posso migliorare anche La difesa Questa la super vista raga Super vista Ok ok raga Va bene così Va bene così Questo personaggio è diventato top Adesso Oggi riusciremo a vincere qualche partita Chi lo sa Oppure dobbiamo bestemmiare come abbiamo sempre fatto Il Krusty Krab Che cosa c'è qua Nuove offerte Nuovi pacchi che ci arrivano qua Non lo so Abbiamo 80 dollari qua Ancora gratuita Ancora gratuita Che cos'è Connessione interrotta Eh vabbè raga così Random Andiamo al Krusty Krab C'è Mega offerta Vediamo cos'è sta mega offerta Ma io non li ho tutti questi soldi Solo 120 Vabbè Un cazzo di panino Con il morsa C'è qua Che ci devo fare Con questa cosa qua Io non ci capisco niente Raga Mi sapete spiegare Cosa servono Questi cose qua Vabbè vabbè Attenzione perché abbiamo soldi gratuiti Incredibile raga E sono anche tanti eh Lo stipendio Ma Ma cosa possiamo fare Con questi soldi Io ancora non ho capito raga Abbiamo solo 1800 20 Per poco non ci potevamo comprare Ah ho capito Cosa servo Super offerta Vuol dire che mi fa comprare Questa skin qua Boh raga Io provo a comprarmi Questa cosa qua C'è anche lo sconto Che cazzo Sono queste cose qua Polpette La skin ovviamente Boh raga Vabbè Abbiamo speso un potto Però vabbè Ci sto Andiamo a fare Ste classificate Che meglio va Eh Cominciamo come Nel migliore dei modi Proprio Arraffagemme Arraffagemme Io mi prendo i fratelli Voglio vedere che succede Con questi Cazzo che mappa Raga Cazzo che mappa Io mi nasconto qua E lancio Tutte queste bombe Sto cazzo Maffanculo va Dai Sono morti Sono morti Dai Che c'è Scappate adesso Però eh Scappate Coglioncelli Cazzo fai Che cazzo fai Che perdi All'istante Dai 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 Sparite di qua Che meglio Tanto non avete speranze Io dichiaro ormai vittoria Tanto Cosa può succedere Di così brutto Oh cazzo E' il primo Era saltato Vabbè Abbiamo vinto Bronzo Tre Con tantissima sofferenza Giungo Di nuovo Arraffagemme Allora Io non lo so Se non cosa ho fatto apposta Però vabbè Raga Vabbè Io confermo di nuovo I fratelli Tanto lo so Che sei qua dentro Ecco Ti ho visto Ti ho visto Uccidete Uccidete Dai 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 Tutti qua sono Tutti qua Tutti qua Io lancio il mio Compagnetto qua Cazzo 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 Via di qua Via di qua Ok Sta procedendo Tutto per il meglio Tutto procede Per il meglio Cazzo Dovevamo prendere Quei cosi Uh Dai dai che lo puoi uccidere Lo puoi uccidere Lo puoi uccidere Bravissimo Bravissimo Dai 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 Prendete tutto Indietro in giate Che ve la vedo io Con questi Ma non voglio Manco dirlo Perché E' troppo Offensivo Troppo Abbiamo vinto Anche questo Oh Due su due Nel raffagemme Non ci voglio credere Allora in KO Non me lo faccio dire Due volte E io Torno a prendere C'è l'into Che se n'è andato qua sopra A random Vabbè Vieni qua Vieni qua Vieni qua Eppure il coglionetto Mi aveva ucciso Fuori uno Cazzo ti salti Certo che Prova a venire qua vicino Prova E' là dentro Raga E' là dentro Cazzo Cazzo Stai attento Stai attento Porca puttana Mi sono fatto uccidere Come un deficiente Pure io Non è che Io non è che sono meglio Degli altri Quanto faccio queste cose Beh Vogliamo aspettare Che Vi chiudete Tutte e due Qua dentro O vogliamo giocare Cosa vogliamo fare Sì Bravissimo Proprio Un genio Sei Proprio is good enough nothing's really clear sometimes it could be